Buonasera a tutti, ringraziamo comunque i gentili signori, le gentili signori per la bellissima serata. Anche quest'anno penso che questa cena sia venuta bene come sempre, la MIMA organizza sempre molto bene con i suoi collaboratori, ringraziamo il Cavaliere, il ristorante Cavaliere che come sempre si rende molto disponibile in questi eventi belli, ringraziamo molto anche la pasticceria Monica Dolci che ha regalato una deliziosa torta. Abbiamo dei centrotavole fatti dalla fiorista, la maga dei fiori, la Floriana, bellissimi, profumatissimi, sono 40 anni che sono in Croce Rossa, c'è stato questo passaggio dirigenziale partendo, io sono entrata con il periodo di Caimi, Lanzani, questi grandi personaggi, siamo passati poi all'attività fatte da Marini e adesso siamo in una terza generazione con il dottor Luca Callari e quindi vediamo un po' come andrà a finire il tutto, sicuramente sarà anche lui all'altezza di portare avanti questo suo mandato e che dire, ringraziamo e festeggiamo i 45 anni di Croce Rossa di Nova Milanese, tutti insieme. Questa cena di beneficenza sono 6 o 7 anni che la facciamo, sempre andando in ristoranti diversi, è una bellissima serata dove si raggruppano delle persone, tutta la rassina del sorriso, vediamo un po' che l'anno prossimo come e dove svolgeremo questa consuetudine e sarebbe bello tenere questa ricorrenza tutti gli anni, in modo che rivediamo sempre le stesse persone, aggiungendo magari qualcuno in più, per passare in allegria e festeggiare la Croce Rossa con tutti noi volontari. Grazie 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 Grazie